Allora siamo nell'827 che si divide in tre parti dicevi? Si, si divide in tre parti l'827. Questo è l'827 dove c'era lo studio di Carlo Acciari e Carlo Acciari abitava in una di queste qua. Adesso non lo so se è quella, mi sembra più là. Allora se noi andassimo lassù, io però non so tanto su troppe scale, io le posso fare a sciagliere, io a scendere, però io vedo lì che il cancello è aperto e lì arriva. Allora arriveremo a un certo punto. Alla casa dei bimbi. Però siccome io vorrei arrivare all'832. Ma l'830, ascolta, non è quello che stava davanti a Cesaroni? Allora, sì, sì. È vero? Perché io vorrei arrivare.